Ciao benvenuto nel canale. Ti invito a lasciare il tuo mi piace e anche ad iscriverti. In questo modo saprai ogni giorno sempre le ultime novità della Juventus. La Juventus ha tra le sue mani uno dei giocatori più promettenti del mondo del calcio. Kenan Yildiz è un fenomeno che raramente delude. È uno di quei talenti cristallini. Kenan Yildiz è entrato a far parte della Juventus l'estate scorsa, dopo aver trascorso del tempo nelle giovanili del Bayern Monaco. La Juventus è riuscita a vincere la concorrenza del Barcellone e ha chiuso l'acquisto di Yildiz a settembre 2022. Da allora, Kenan Yildiz è impressionato nella squadra next gennaio della Juventus. La tifoseria della Juventus sogna già di vedere il giovane talento nella squadra principale della Juve, e questo può davvero accadere la tendenza e il giovane guadagnano sempre più spazio nella prima squadra bianconera. Kenan Yildiz in questa stagione ha segnato 12 gol e fatto 6 assist. Numeri molto buoni per un attaccante di soli 17 anni. Tifoso della Juventus, cosa ne pensi di Kenan Yildiz? Secondo te la Juventus dovrebbe promuoverlo in prima squadra?